DMSI albergatori a Braccetto per la giostra cavaleresca di Sulmona. La DMSI Cuore dell'Appennino, la destinazione turistica della Valle Pelini in Valle del Sagittario, ha svolto un lungo lavoro di stimolo a collaborare e di coordinamento tra la giostra cavaleresca e gli albergatori a fine di elevare l'offerta giostra al rango di evento nazionale per la promozione turistica, capace di attrarre ospiti per il 25-26 luglio. La DMSI ha così creato una promozione per un weekend a Sulmona per assistere appunto la famosa giostra cavaleresca, una delle più belle e ricche d'Europa a un prezzo eccezionale, con due pernottamenti, una cena nei borghi e biletti per le due entrate per lo svolgimento della gara. Sarà la rete della Sulmona che funziona, l'entusiasmo non ancora del tutto sopito, il bello che abbiamo, unito a un supporto professionale idonio, ad aiutare il territorio a progredire nella strada che ci sembra più possibile, lo sviluppo turistico e, quando scrive in una nota, Anna Berghella, presidente della DMSI Cuore dell'Appennino. L'offerta è stata avvicolata stamane dalle associazioni, oltre che Grab Lions International, Rotary International e Panathol International e sono già arrivate alle prime prenotazioni. Le associazioni coinvolte sono dimostrate subito sensibili e hanno con favore accettato o diffondere personalmente l'invito, orgogliosi di quanto la città di Sulmona può offrire.